Stop al Papi Yoga in Italia. Ad annunciarlo è una nota del capodipartimento One Health del Ministero della Salute, Giovanni Leonardi, dopo le denunce degli ambientalisti. Secondo il documento, le sedute meditative assieme ai cuccioli di cane rientrano tra le attività di interventi assistiti con animali, pratiche che, secondo l'accordo Stato-Regioni, devono essere svolte da pet in età adulta e non da neonati amici a quattro zampe per tutelare benessere e salute dei pazienti umani. Proprio per questo l'utilizzo dei cuccioli di Bulldog, Labrador e Golden Retriever è illegale, soddisfatti gli animalisti dopo avere definito al Papi Yoga uno sfruttamento dei pet a fini commerciali. Soltanto negli ultimi mesi l'attività, diventata popolare negli Stati Uniti d'America, era sbarcata in Italia con migliaia di persone pronte a sborsare decine di euro per meditare assieme a Fido.